Danza e benessere conquistano gli spazi di Palazzo Farnese il 27 e 28 maggio con la danza delle rondini farnesiane, una due giorni di eventi gratuiti che mette insieme le competenze di alcune scuole piacentine e che darà vita a spettacoli e dimostrazioni. Vi invitiamo tutti a Palazzo Farnese il sabato 27 e domenica 28 maggio per un evento gratuito, aperto a tutta la cittadinanza per bambini e adulti, anche chi non ha mai provato ma vuole in qualche modo avvicinarsi al mondo della danza. Avremo tante lezioni, tanti appuntamenti, sabato mattina è più una danza intesa come movimento, benessere e quindi wellness, avremo yoga, girochinesis al mattino e al pomeriggio invece attività come tip tap, favole in movimento per i bambini più piccoli e hip hop. La domenica invece ci sarà anche un dibattito, quindi tratteremo anche dal punto di vista di confronto quello che è l'importanza della danza, soprattutto per gli adolescenti, quindi un'età comunque abbastanza critica. Per poi andare al pomeriggio a questo Piacenza on stage, rifacendoci a quello che è il grande evento di Milano, anche noi vogliamo riproporlo in questo bellissimo contesto che è il Palazzo Farnese, per poi concludere alle ore 18 con uno spettacolo proprio della danza delle rondini farnesiane. Spettacolo gratuito, ribadisco, aperto proprio a tutti, invitiamo a partecipare con un dress code nero proprio rifacendoci a quello che sono le rondini e ringraziamo per l'opportunità il Comune di Piacenza e l'Assessorato della Cultura perché il progetto rientra nel bando appunto Sistema Cultura 2023 e siamo appunto tra i vincitori del bando.